Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Questa è un'iniziativa promossa da l'Arce Audio Cop, gli amici della musica e il Cemat. L'abbiamo intitolata La musica è finita e l'abbiamo organizzata in occasione del 21 giugno Festa della musica europea perché come organizzazioni che si occupano di musica indipendente sono ormai diversi anni che riteniamo che il panorama musicale di questo paese sia molto in crisi, ci sono una serie di indicatori che ci dicono che la musica in Italia sta facendo davvero molto fatica, non tanto dal punto di vista della capacità creativa perché ci sono tantissimi artisti, tantissimi gruppi musicali che producono ottima musica ma dal punto di vista soprattutto dell'organizzazione della musica, della filiera della musica. Ci sono tante questioni che vorremmo provare ad affrontare oggi ma soprattutto quello che ci preme davvero molto è di cercare di creare un fronte comune per capire cosa fare per migliorare la situazione e proporre anche una serie di interventi anche legislativi che possono sbloccare questo momento veramente abbastanza complicato. Qui con me c'è Giordano San Giorgi del MEI che molti conoscete, abbiamo tanti ospiti che poi vi presenterò. Io dico solo tre cose principali, poi nel corso della giornata verranno fuori molti argomenti quindi non sto qui a snocciolare tutte le questioni che sono tra l'altro riportate sui siti dove si può vedere lo streaming video che sono www.arci.it, www.audiocop.it e www.retefestival.it Quintostato.org Le tre questioni che vi dicevo che volevo un po' mettere a fuoco sono La prima, quella che riguarda un po' tutta la filiera musicale voi sapete che ormai sono tanti anni davvero che stiamo parlando di possibili leggi sulla musica e sullo spettacolo dal vivo sappiamo che c'è un testo che dovrebbe andare in legislativa cioè che è stato valutato positivamente dalla Commissione Cultura della Camera. Questo testo è un buon testo anche se noi abbiamo mandato già una serie di richieste di integrazione di questo testo in particolar modo lo voglio dire perché siamo nella sede del forum del terzo settore a noi pare che in quel testo manca per esempio la valorizzazione e il sostegno di tutte quelle forme non profit del terzo settore che si occupano di musica, di cultura, di promozione culturale e di spettacolo dal vivo. Questa è una mancanza grave e abbiamo anche voluto organizzare questo incontro alla sede del forum del terzo settore per dare più forza a questa richiesta. Per quanto riguarda la proposta di legge sullo spettacolo dal vivo noi vorremmo davvero chiedere che questa proposta trovi il modo di arrivare in aula di essere votata e in particolare che si trovi la copertura per questo provvedimento perché sappiamo che è uno dei problemi principali. Sicuramente questo passaggio legislativo può aiutare non poco il settore. Altra questione importante è quella legata alla gestione del diritto d'autore e non solo e cioè la gestione attraverso le società di colletti nel nostro caso attraverso la SIAI che voi sapete che nel nostro paese è monopolista nella gestione del diritto d'autore. La SIAI in questo momento sta attraversando un periodo drammatico. Sapete che ci sono state delle audizioni in commissioni cultura sulla situazione economica ma anche organizzativa della società che gestisce il diritto d'autore nel nostro paese. La situazione è davvero grave. I commissari che stanno gestendo la SIAI in questo momento hanno anche mandato al governo una bozza del nuovo statuto che abbiamo letto con grande attenzione. Ci sono una serie di cose che noi riteniamo non buone. In particolare la cosa più grave è che la futura eventuale società SIAI sembra che si configuri come una vera e propria SPA che darebbe un peso veramente eccessivo ai più forti, importanti autori ed editori. Noi invece crediamo che questo soggetto debba svolgere un ruolo importantissimo per promuovere anche e soprattutto i nuovi autori, la nuova musica. Ovviamente da questo punto di vista c'è una discussione su se liberalizzare o meno la raccolta dei proventi del diritto d'autore nel nostro paese, qui ci sono diverse anime e diverse opinioni. Io credo che sia molto importante, abbiamo già fatto una riunione tra alcuni di noi che vedo qui in sala, per capire come è possibile riorganizzare la SIAI e riorganizzare la raccolta dei proventi del diritto d'autore nel nostro paese, sarà importante sentire le diverse voci e capire se insieme troviamo una soluzione a questo problema. Ovviamente c'è anche la questione dei diritti degli interpreti ed esecutori e quindi tutto il percorso che sta facendo il nuovo IMAIE e lì sì ci saranno anche altre società che si occuperanno di questo comparto. Tra l'altro ospiteremo anche Micichè che darà un premio ad un gruppo importante musicale di cui vi parlerà poi anche Giordano e che sono gli area. E l'ultimo punto che volevo un po' mettere all'attenzione, oltre a quelli che appunto verranno fuori nella discussione, è il ruolo dell'Europa in tutta la questione che riguarda il sostegno della musica e il sostegno della cultura nel nostro paese. Voi sapete che è in discussione al Parlamento europeo il programma che si chiama Creative Europe che sosterrà le politiche culturali in Europa dal 2014 al 2020. È una discussione ovviamente molto complessa perché la crisi economica è molto forte, però noi come organizzazioni non solo italiane ma anche europee stiamo sostenendo una campagna che si chiama We Are More che se cercate su internet trovate facilmente ed è una campagna europea che cerca di fare pressioni sulla Commissione europea e sul Parlamento europeo per aumentare i fondi a disposizione delle politiche culturali nel nostro paese e in Europa ma soprattutto è una campagna che cerca anche lì di sostenere all'interno del programma Creative Europe tutte le forme organizzative che si occupano di cultura in Europa e quindi anche lì non solo l'impresa in quanto tale ma l'impresa profit, non profit, i festival e quant'altro. Questo è un ambito che noi riteniamo molto importante tra l'altro questo ambito riguarda anche ovviamente il diritto d'autore l'accesso a internet, l'accesso ai contenuti quindi volevamo metterlo come uno dei tre punti importanti da affrontare perché in Europa si gioca una partita davvero sostanziale rispetto alle questioni che stiamo cercando di affrontare anche oggi. Chiudo dicendo che oggi è il 21 giugno, è la festa della musica dal nostro osservatorio questa festa della musica sarà un po' triste perché gli eventi musicali che sono stati organizzati per queste giornate non sono molti questo è un segnale brutto sappiamo anche che molti festival hanno accorciato la loro durata sappiamo anche che molti festival stanno avendo un problema di sostenibilità economica importante quindi vogliamo dire che la musica nel nostro paese non sta molto bene probabilmente non è finita, infatti abbiamo messo un bel punto interrogativo anzi è molto attiva e dal punto di vista creativo è straordinariamente interessante però la musica nel nostro paese non sta affatto bene tra l'altro durante questa mattinata presenteremo anche un brano molto importante di cui magari parla meglio Giordano Salgiorgi che è stato promosso da Arci e da Audiocop il cui coordinamento e ideazione artistica è di Piotta che è qui con noi però Giordano magari dice due cose in più sul brano che poi presenteremo più in avanti durante la mattinata grazie quindi abbiamo raccolto questa proposta di Piotta di un brano sul tema del futuro di questa zona il brano si chiama Ancora in piedi poi l'ho illustrato a Tommaso molto bene c'è stata una forte partecipazione e adesione di soggetti artistici e produttivi e di questo ne siamo soddisfatti ed è un'iniziativa veramente molto positiva io ho detto questo direi che diamo la parola come concordato con Carlo ad alcune esperienze che ci fanno vedere quindi le prospettive che arrivano dall'estero e quindi Christoph Storbeck che è il collegamento Skype dalla Germania lui segue per molte etichette indipendenti per Audiocop molti artisti indipendenti segue una promozione all'estero devo dire di successo per quanto riguarda le nostre attività quindi a lui la parola anche perché ha seguito la realizzazione di un manifesto globale della musica indipendente che ha fatto win seguendo nei dibatti di confronti che uscirà in questi giorni Christoph ci sei? sì sì ci sono ci sono perfetto vai pronto mi sentite? sì allora vi racconto un attimo di cosa si tratta il Global Manifesto della musica indipendente la win che è il World Wide Independent Network per dire la rete associazione madre delle associazioni di categoria e di etichette e distribuzioni che possono aderire indipendentemente rappresenta 27 paesi in totale di cui i membri sono anche per esempio in Pala e insieme da un po' di tempo al Miden e altri eventi è stato sviluppato questo manifesto che esprime un collettivo punto di vista sul futuro della musica e il ruolo del settore indipendente in ciò come si può affrontare il mercato che praticamente sono vari obiettivi messi in una decina di punti che raggruppano anche o tra altro l'accesso al mercato del settore indipendente uguale a quello dei major la trasparenza nel mercato digitale combattere l'abuso del mercato da parte dei grandi player cioè una legge che è la legge della competitività deve valere anche per le attività medio-piccole cercare dei appoggi da governi per il mondo indipendente in termini di finanziamenti, accrediti, tasse un punto molto importante è anche il discorso con le società di collecting che devono ritribuire piccole, medie e anche grandi dipendenti uguale a come fanno con i major e questo praticamente verrà ratificato domani a New York in un incontro organizzato dai nostri colleghi della A2IM che è l'associazione americana e successivamente il manifesto può essere utilizzato da tutti i membri della WIN di Impala e comunque del mondo indipendente per applicarlo e tradurlo nelle proprie situazioni locali per quanto riguarda l'utilità è molto importante per avere una credibilità da parte dei organi internazionali per fare proprio la battaglia locale invece su come si potrebbe applicare questo manifesto in Italia ve lo potrà dire benissimo Giordano a cui rivolgo la parola adesso grazie Cristof io volevo chiedere una cosa a Cristof dal tuo punto di vista c'hai ancora un minuto non ti do tanto tempo dal tuo punto di vista il panorama complicato che ho descritto prima che c'è in Italia nel mondo della musica secondo te lo stanno vivendo anche in altri paesi ovviamente immagino quelli di cui si parla sempre immagino che siano molto in crisi non sto parlando della Grecia o della Spagna eccetera ma volevo sapere se anche tu dal tuo osservatorio registri una difficoltà del mondo della musica in particolare della musica indipendente anche a livello europeo sì vale un po' per tutti i paesi ovviamente i termini di vendita sono crollati non solo per quanto riguarda il fisico è comunque quel poco che riesce a recuperare il digitale ma fondamentalmente dipende anche un po' quanta attenzione ci dia lo stato alla creatività e alla cultura cioè per esempio in Francia quando un artista dice ciò ho venduto solo 80.000 o 90.000 a quello che è cioè a noi viene un po' da ridere che non lo fa praticamente nessuno invece anche in altri paesi come la Germania è normale ormai che un artista tipo vende 200-300 copie del mondo indipendente in più ovviamente quello che c'è dal vivo cioè una crisi non è assolutamente solo italiana è mondiale perciò questo manifesto è globale e vuole assolutamente combattere quello ok ti ringraziamo molto grazie mille prego sottolineo un aspetto mentre si prepara Giulio Stumpo di We Are More che invito a sedersi qui ed è l'aspetto della unità in questo caso che stanno facendo tutte le etichette discografiche indipendenti diciamo del mondo quelle più sensibili più attente tant'è che sono riunite tutte la differenza con l'Italia è che mentre questo a livello europeo riescono a riunirsi internazionale noi insieme alle altre associazioni indipendenti andiamo poi a queste cose e contribuiamo in Italia non riusciamo a farlo cioè restiamo frazionati quindi debolissimi quindi con un mercato che sta crollando ma con ancora associazioni che non vogliono marciare unite e questo sicuramente aggrava la nostra situazione dal punto di vista musicale Buongiorno sono appunto Giulio Stumpo di Eccom mi occupo con Arci peripezie urbane e giovani artisti italiani della campagna We Are More la campagna come ha già detto Carlo Testini la trovate su internet molto facilmente quindi firmate al più presto il manifesto di questa campagna qui il titolo è molto incisivo secondo me di questa giornata ed è la cosa più incisiva ovviamente il punto interrogativo allora la campagna We Are More si propone di essere diciamo un nuovo strumento non solo per la musica ovviamente ma per tutto quello che è l'ambito della creatività e dello sviluppo socio-economico attraverso i beni creativi al livello di Parlamento Europeo si sta facendo un percorso che finirà entro la fine di quest'anno sperabilmente entro la fine di quest'anno e proprio qualche giorno fa c'è stato un incontro con la relatrice che peraltro è italiana l'onorevole Silvia Costa nel quale abbiamo suggerito anche degli emendamenti operativi a questo testo di regolamento che verrà presentato in ottobre questa questa campagna vuole sensibilizzare i cittadini soprattutto ma anche le istituzioni a rendersi parte attiva di una politica culturale che non deve essere solo relegata agli strumenti internazionali anche perché le politiche europee sono politiche di sostegno sussidiario alle arti e alla cultura quindi senza una politica nazionale nell'ambito della musica nell'ambito della creatività è ovvio che viene depotenziata anche tutto l'intervento europeo il segno che però vuole dare questa campagna è quello di sostenere i cambiamenti in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo l'arenarsi a posizioni che fino a oggi sono state sicuramente non vittoriose significa non essere dei contrari al cambiamento mentre questo nuovo programma Creative Europe che unisce l'audiovisivo alla musica al cinema alla televisione radio passando per teatro danza e tutte le arti performative tra virgolette tradizionali ci pone appunto davanti a una sfida importante i fondi peraltro anche se non sono enormi a livello europeo sono comunque in crescita rispetto agli anni precedenti e questo è un segno che salutiamo con interesse tuttavia la campagna si propone anche come giustamente diceva anche Carlo si propone di far inserire quanto meno inserire la parola cultura nei programmi Europa 2020 soprattutto nel documento Europa 2020 e nei fondi strutturali che sono da sempre stati lo strumento principe anche di finanziamento nella cultura guardate questa non è una cosa da poco perché se non c'è la parola cultura in Europa 2020 vuol dire che gli stati nazionali non potranno finanziare la cultura cioè non vuol dire soltanto che l'Europa non la finanzierà cioè vuol dire che non finanzi quindi è una cosa molto importante che ci sia quantomeno un'indicazione forte di questa cosa e non so quanto ho tempo ulteriore ho finito va bene grazie mille arrivederci avevamo invitato l'onorevole Emanuela Ghizzoni che è la presidente della commissione cultura scienza istruzione della camera dei deputati purtroppo per impegni istituzionali non riusciva ad essere con noi però ci ha mandato un messaggio che trovate nella cartellina non lo sto a leggere tutto perché non è lungo ma insomma non voglio togliere minuti preziosi la cosa importante è che in questo messaggio si dice che e vi leggo solo queste due frasi la legge è testimonianza la proposta di legge sullo spettacolo dal vivo di cui vi dicevo prima è testimonianza che nonostante il calo costante vistoso delle risoste al sostegno della spettacolo dal vivo la classe politica italiana crede ancora in questo settore nella musica che questo mi sembra già diciamo una frase importante da dire vediamo poi nel concreto se si riuscirà a fare questo percorso legislativo i prossimi passi saranno le leggi di settore e qui già ci tremono in quei polsi perché diversi di noi hanno lavorato per tanto tempo nel tentativo di fare delle leggi sulla musica che non siamo mai riusciti a portare a termine non per colpa nostra vi invito fin da ora a far pervenire idee e proposte che sicuramente non vi mancheranno perché la musica tutta senza distinzioni fra i generi possa crescere e far crescere la cultura del nostro paese anche questa sottolineatura sui generi è importante perché voi sapete bene quanto la musica che noi qui oggi in molti rappresentiamo non è proprio nell'orizzonte non è mai stata e non lo è ancora forse nell'orizzonte politico di questo paese quindi queste iniziative servono anche per capire come fare invece a valorizzare tutte le musiche in effetti la musica è finita ma io non credo che la musica sia finita perché per fortuna ci sono i musicisti e quindi sono loro che alla fine prenderanno in mano prendono in mano la questione e quello che è sicuramente a mio parere finito è una serie di ingessature che hanno anche molto se vogliamo angariato specialmente gli ultimi anni ma che insomma già erano anche visibili anche diciamo un vent'anni fa quindi non è stato un processo proprio breve sicuramente ci sono delle scale vorrei dire di valori o comunque di di impostazioni che non sono solo teoriche ma sono anche proprio di creatività che fanno sì che ci siano differenti generi di musica e questo non si può certo cancellare non ha senso cioè voglio dire il problema è che non ha senso perché ciascuno è libero di interpretare la sua il suo ruolo la sua funzione nella vita e nella musica se è un musicista e quindi ha il diritto di esprimersi come meglio crede e certamente ci sono dei modi di procedere creativamente che sono più o meno complessi e più o meno corrispondenti a quello che la percezione dell'arte fa in modo di garantire a tutta la creatività nello stesso tempo però sono anche contenta che alla fine tutti quei vari disegni di legge di cui parlava Carlo Pocanze che ci ha visto tante volte protagonisti a scrivere a consultare a cercare le soluzioni eccetera eccetera alla fine non si erano andati in porto perché specialmente negli ultimi anni è accaduto qualcosa di molto diverso in qualche modo cioè che dal punto di vista proprio degli strumentisti dei musicisti eccetera c'è stato uno scavalcamento di questi generi che oggi è un patrimonio molto importante quindi diciamo che oggi la la differenza tra questi generi per esempio noi la percepiamo in modo molto molto più limitato di quanto non lo fosse un po' di anni fa proprio grazie ai giovani compositori ai giovani strumentisti che si sono lanciati in un discorso sulla musica che veramente prescinde in qualche modo dall'accademismo chiamiamolo così quindi questo è già mi sembra un passo molto importante naturalmente tutto questo si riverbera anche in un modo di procedere appunto di questi musicisti molto irrituale se vogliamo ma che li mette al centro di un'attenzione che non hanno mai avuto nelle leggi che sinora sono stati o nei decreti che sinora sono stati emanati o regolamenti che dirci voglia perché i musicisti grazie anche alla rete hanno imparato che possono essere presenti e anche un po' fastidiosi se vogliamo cioè provocanti partendo da se stessi vi ricordo se mai non l'aveste saputo ma insomma a Roma era difficile non saperlo l'attività che è stata fatta dai cento violoncellisti per il teatro per il teatro Valle non è tanto importante il problema a parte vabbè è sicuramente un tema importante il teatro Valle e tutta la sua conduzione ma quello che è importante è che cento violoncellisti che arrivavano da tutta Italia grazie al web e grazie alla così alla Costanza a una chiamata alle armi se volete di Giovanni Sollima e di Daniela Petracchi sono arrivati a Roma e si sono fermati tre giorni e hanno ribaltato il suono di Roma perché cento violoncelli che suonano in tutte le piazze sono una forza incredibile e adesso abbiamo anche un'altra iniziativa che sta prendendo corpo proprio in Emilia a Concordia dove un contrabassista ha fatto un po' lo stesso tipo di chiamata a cui abbiamo risposto in parecchi e l'obiettivo è che il 30 di giugno a Concordia in un grande prato ci siano mille musicisti che suonano per ammansire la terra cioè voglio dire capite non è un problema di suonare Beethoven o di suonare qualsiasi cosa il problema è di essere insieme di partecipare a una civiltà ai problemi della società ecco in questo mi sembra di poter dire che tutti i musicisti sono impegnati si sentono coinvolti vogliono partecipare e quindi voi capite che è bene che siano anche in qualche modo destinatari di leggi e disposizioni che tengano conto di loro perché finora parliamoci chiaro di loro non si è occupato nessuno come voi sapete tutti in ogni caso la musica è stata sempre mediata dagli impresari dalle associazioni dai sovrintendenti è sempre stata mediata il musicista in realtà non è libero non è mai stato libero per lo meno quello che riguarda adesso invece evidentemente c'è una voglia molto forte di essere presenti in prima persona verso la società quindi il problema che io mi pongo e di cui ho parlato anche con Carlo Valtevol ci siamo incontrati sia col Movem sia con Cemat eccetera è che in queste leggi si deve tenere conto della funzione del musicista non mi importa affatto cosa suonano il problema è che il musicista deve essere una forza importante dentro la cultura di una società forse il nostro problema è stato anche il fatto che nel famoso articolo 9 della Costituzione manca totalmente la parola musica che mi sembra una cosa veramente brutta forse possiamo farcela anche inserire la parola musica prima o poi ecco sono piccoli spunti e vi auguro buon lavoro vi ringrazio grazie io volevo intervenire per questo a me sembra particolarmente rilevante la questione generale che state ponendo che abbiamo posto anche appunto in quel convegno io come sapete seguo queste questioni per le questioni generali della cultura della scuola della formazione della ricerca per l'Italia dei valori che ha deciso diciamo così di porre queste questioni tra le questioni di rimenti per la costruzione di un progetto d'alternativa di un programma di alternativa quindi impegnando forze soldi purtroppo risorse diciamo anche materiali per quello che c'è tenendo conto che si è rinunciato alla trance del finanziamento pubblico le risorse anche materiali per cercare di porre queste questioni penso che sia essenziale la questione che veniva posta adesso del 2020 del nuovo programma strutturale lo dico anche per esperienza personale noi abbiamo tentato anzi veramente siamo anche riusciti pur non essendoci il termine cultura nel programma 2007-2013 ad investire sui beni culturali 35 milioni di euro dei fondi strutturali ma facendo una fatica mostruosa abbiamo dovuto farli passare come competitività territoriale sostenendo la tesi quindi facendo tutto un giro di peppe è chiaro vincendo la battaglia sia col governo nazionale che con la commissione però proprio per questa ragione la giunta Volverini ha potuto cancellarli per la stessa ragione cioè dicendo no perché in realtà noi non riteniamo questo ha potuto cancellarli se ci fosse stato il termine cultura se non altro non avrebbe potuto cancellare lo dico perché effettivamente questa è una battaglia molto importante e tra l'altro è particolarmente importante per il mezzogiorno che come voi sapete può usare i fondi strutturali anche per attività e non solo per investimenti il che è determinante dal punto di vista delle attività culturali ed è determinante anche per il mezzogiorno peraltro che cosa che non è da poco noi faremo il 30 adesso un'iniziativa nel mezzogiorno in cui la questione della cultura nel mezzogiorno diciamo tra i beni culturali e le attività diventa uno degli asset su cui noi riteniamo che si debbano concentrare le forze e gli investimenti nel mezzogiorno oltre ovviamente a legalità cose che conosciamo quindi un interesse nostro seconda questione noi stiamo elaborando come gruppo una serie di emendamenti alla legge Carlucci perché riteniamo vi volevo dare questa informazione perché quindi penso che prenderemo naturalmente in considerazione gli emendamenti che ci sono stati inviati perché riteniamo quella legge confusa oltre che senza una lira pasticciata e effettivamente questa parte manca completamente io poi ritengo personalmente un errore determinare un'area minore per l'innovazione penso che questo sia e penso invece che bisogna cominciare a dare intervenire sul modo in cui è fatto e distribuito il FUS la legge Carlucci di fatto rinvia per tre anni e lascia tutto com'è e noi pensiamo che se c'è l'occasione di farlo finalmente facciamo una legge sullo spettacolo se no è meglio non fare niente cioè se dobbiamo fare una cosa che poi rinvia di tre anni e quindi questo diciamo noi stiamo preparando era la seconda cosa che vi volevo dire e quindi vi chiederei anche in quell'occasione io non so se verrà data la legislativa ma mi raccomando chiedete le audizioni domani terzo elemento noi abbiamo presentato una proposta di legge sul sostegno all'impresa che fa musica diciamo così che è un tentativo di sostegno finanziario peraltro trovando anche il posto da cui prendere i soldi quindi finanziata finanziabile diciamo così cosa che riproporremo sulla legge Carlucci che ci piacerebbe se è possibile presentarvi in modo da poterne anche valutare la congruità e anche la possibilità di miglioramento o comunque se è necessario di spingerla e di generalizzarla anche agli altri partiti grazie ringrazio Giordano che mi ha invitato a questo incontro in effetti domani rivedrò i responsabili di SmartB che già nell'acronimo secondo me stimola alcune considerazioni su un concetto che è una pratica che abbiamo perso forse all'inizio del novecento nella prima metà del novecento in Italia che è quella della mutualità io credo che sia proprio partendo da questo concetto analizzando un po' la possibilità di ricostituire un tessuto di mutualità tra gli artisti e nella fattispecie tra i musicisti indipendenti perché è attraverso una rete di soggetti singoli indipendenti che tra loro costituiscono questo rapporto che si è data vita da 12 anni 12-13 anni in Belgio a questa associazione che oggi si è trasformata in fondazione la Smart società mutualistica degli artisti indipendenti SmartB e questa associazione oggi annovera 42-43 mila soci in Belgio quindi una grandissima realtà con un bilancio che sfiora i 15 milioni di euro e che è costituita non di contributi se uno pensa a Bruxelles e quindi pensa subito all'Europa no non ci sono contributi europei l'associazione la fondazione si fonda esclusivamente attraverso una quota parte che il fatturato di ciascun singolo artista o anche tecnico o anche operatore o anche creativo è un'associazione diciamo interdisciplinare consegna alla società alla fondazione ci sono i servizi che si dicevano all'inizio soprattutto dal punto di vista organizzativo e amministrativo cioè quelle premesse diciamo strutturali e formali che consentono alle idee creative poi di diventare realtà ci sono anche prospettive in Italia assolutamente impensabili legate al credito senza interessi una sorta di banca etica cogestita per cui si anticipano i pagamenti delle fatture rispetto alle quali si sono dei ritardi e si anticipano questi pagamenti senza interessi a fronte appunto di una fattura di un socio di questo SMAT quindi ora si sta lavorando cercando di perché è chiaro ci sono anche delle differenze strutturali di pensiero penso solo che ecco loro giustamente anche io forse perché ho fatto 8-9 anni l'amministratore sono molto attento anche alle parole e a non darle mai per scontate ecco loro gli artisti li chiamano innanzitutto lavoratori intermittenti un concetto per me anche questo col quale dovremmo fare i conti a parte che noi siamo sempre meno lavoratori e sempre più con delle pause nell'intermittenza che rendono ormai vacuo anche questa definizione però c'è il riconoscimento al lavoratore che si presta alle arti nella sua nella necessaria intermittenza della propria pratica c'è il riconoscimento di una continuità e anche questo è un concetto che secondo me dovremmo riprendere in considerazione poi ripensavo anche al senso perché poi è la prima uscita che faccio da quando non sono più sindaco mi siamo a piede libero e quindi mi veniva da pensare come Giordano ha vissuto con me l'esperienza del Petrella di un piccolo teatro comunale che veniva consegnato senza processi di scambio veniva consegnato agli artisti in virtù del loro statuto di artisti noti ma soprattutto meno noti a Longiano in cambio e questa messa disponibilità dello spazio pubblico un teatro piccolo ma un teatro sotto tutti i punti di vista comunque un teatro agibile in cambio dell'anteprima del lavoro del muricista allora lo ridico perché è una storia che ha oltre 25 anni quella delle residenze creative però ancora oggi secondo me questo è un elemento di mutualità che si può istituire tra le istituzioni pubbliche che hanno un patrimonio esorbitante di coesorbitante non per dire che è mal gestito nel senso che non sanno neanche loro gli spazi titolati a diventare luoghi per la creazione che hanno a disposizione è una pratica che secondo me può valere soprattutto tra l'artista le associazioni degli artisti e l'ente locale in un rapporto di prossimità che rende più semplice la risoluzione dei problemi fermo restando il livello europeo di dibattito il livello nazionale la legge e la regione perché anche la regione deve fare i suoi passi grazie allora prendo spunto da questo intervento che mi sembra molto interessante per introdurre diciamo una parte che riguarda come vi dicevo più la discussione che c'è sulla gestione dei diritti d'autore e le società e gli enti e le organizzazioni che sono preposte a farlo prendo spunto dicevo perché ovviamente in un momento in cui la crisi economica è fortissima dove il mondo della musica ma in generale il mondo degli artisti è piuttosto sofferente dal punto di vista anche delle tutele in senso lato è chiaro che una discussione sugli strumenti che sostengono gli artisti e la loro creatività è una discussione centrale ed è uno dei motivi per i quali per tanto tempo abbiamo chiesto che la discussione sulla SIAE in particolare fosse una discussione pubblica in cui se ne parlasse molto che si coinvolgessero le organizzazioni di artisti di organizzatori di editori di etichette eccetera perché crediamo che questa sia una discussione centrale per capire dove va a finire il sistema musicale e il sistema della creatività in questo nostro paese intanto grazie perché è un piacere ovviamente confrontarsi su questi temi sono telegrafico perché per fortuna internet oltre che per gli artisti esiste anche per gli avvocati quindi ormai lo possiamo usare per parlare tutto quello che penso o quel poco che so l'ho scritto io la vedo così le audizioni in commissione cultura della SIAE raccontano una storia che gli addetti ai lavori dicono vabbè ebbè lo sapevamo tutti quanti stanno sfilando i direttori generali e i presidenti e i commissari straordinari e quando ce ne sono troppi qualcosa evidentemente significa che dal finire degli anni 90 ad oggi hanno retto SIAE dicono tutti la stessa cosa e cioè non c'è nessuna sorpresa i buchi di bilancio le faide interne in relazione alla governance dell'ente sono lì da sempre tanto se si guanza al fondo pensioni nelle ultime audizioni è datato 1978 la origine della crisi del fondo pensioni del fondo pensioni SIAE tanto se si pensa al contrasto tra i ricchi e i poveri nella governance dell'ente e se dal 90 ma in realtà dovrei dire dalle origini ad oggi nessuno ha fatto niente il mio punto di vista in questo momento all'esito di quello che si sente dire in commissione d'indagine poi sapete che la commissione d'indagine in realtà se tutto va per il verso io dico giusto si trasformerà nei prossimi mesi in una commissione d'inchiesta quindi con un Parlamento e con degli esperti che potranno entrare dentro SIAE e rigirarla rigirarne almeno le scritture contabili e almeno gli atti interni cosa che ritengo sia un'operazione di trasparenza preziosa la SIAE è ente pubblico non ha senso se il governo e se il Parlamento si gira dall'altra parte ogni volta che c'è da tutelare poi gli interessi dei beneficiari ultimi di quell'ente cioè di chi fa arte e cultura in questo paese questo è esattamente quello che è accaduto sin qui questo è esattamente quello che sta accadendo in questo momento perché la SIAE è in piena crisi parte di questa crisi mi lo dico in maniera assolutamente trasparente almeno nell'epilogo è da debitare certamente all'attuale dirigenza straordinaria cioè al commissario straordinario per quel che conta ai subcommissari e conta sicuramente molto di più il loro ruolo e al direttore generale il governo ha trovato unica soluzione possibile quella di rinnovare il mandato a questi signori a parte rinnovare il mandato ad un commissario straordinario al quale tutti vogliamo molto bene ma che ha penso 92 anni probabilmente insomma comunque è un gesto sintomatico da questo punto di vista l'ipotesi quanto a SIAE che è venuta fuori che sta venendo fuori in commissione in commissione cultura è che il pubblico ed il privato insieme non vadano bene per la gestione dei diritti allora che il pubblico debba occuparsi solo ed esclusivamente della promozione della cultura e della enforcement dei diritti e delle regole e che il privato debba occuparsi a questo punto realisticamente però nel libero mercato della gestione della gestione dei diritti non so e nessuno in realtà sin qui ha detto se questo è lo scenario migliore possibile è uno scenario diverso sul quale ci si sta ci si sta interrogando lato diritti connessi dove invece la partita è un pezzo avanti e il governo sta manifestando lo stesso tipo di indifferenza nel senso che ha affrettato forse ha precipitato la scelta dell'apertura del mercato ma non ha accompagnato sin qui l'apertura del mercato da una regola a valle allora il rischio elevatissimo quando si parla di concorrenza nella gestione dei diritti è che la concorrenza che significa in ultima analisi anche il prezzo più basso sia un prezzo più basso che è fatto poi sulla pelle dell'artista perché è ovvio che per carità è facilissimo gestire in maniera collettiva i diritti se dico invece che raccogliere 50 raccolgo 20 e dopo che ho raccolto 20 invece che distribuire 50 distribuisco 15 ovvero il 20 al netto del margine allora fermo restando che la liberalizzazione secondo me dei mercati della gestione dei diritti che non ha niente a che vedere con la promozione invece dell'arte e della cultura in un paese è assolutamente opportuno che avvenga su un mercato aperto e d'altra parte quella sarà l'indicazione che arriverà da Bruxelles quindi nessuno di noi ritengo possa farci molto sarebbe importantissimo mi sembra che scada domani o dopo domani ma non verrà ovviamente rispettato come tutti gli altri termini il termine nel quale il governo dovrebbe tirar fuori il DPCM il regolamento sul funzionamento del mercato dei diritti connessi il governo lì stabilisca alcuni paletti paletto primo è la trasparenza cioè il distribuito deve essere distribuito secondo criteri possibilmente puntuali e non forfettari perché oggi abbiamo gli strumenti per farlo e in maniera trasparente e la misura del riparto all'artista ultimo beneficiario non può essere lasciato al mercato privato perché questo è un fatto che capisce persino un bambino metto due concorrenti una che deve entrare su un mercato sin cui controllato da una società monopolista che si chiama IMAI e il concorrente la prima cosa che fa i concorrenti la prima cosa che fanno è praticano prezzi più bassi praticano prezzi più bassi ma se con quel prezzo più basso vendono gli stessi diritti poi avranno meno da distribuire se nessuno gli impone di distribuire un minimo invece che far bene attraverso l'apertura del mercato abbiamo fatto male quindi questo è lato diritti connessi secondo me è una cosa cioè dobbiamo tutti far pressione perché il mercato non venga lasciato perché la liberalizzazione non si trasformi in far west e perché il governo faccia la sua parte che non è quello di insegnare all'imprenditore come si gestiscono i diritti lì il miglior imprenditore è quello che opera in posizione di efficienza è giusto che vinca ma che si preoccupi di quella che è l'unica preoccupazione del pubblico e cioè che siccome la legge sul diritto autore serve a promuovere l'arte e la cultura ci siano le condizioni perché questo strumento di promozione resti uno strumento di promozione e non si traduca in uno strumento invece di assistenzialismo tra l'altro solo per pochi l'ultima battuta probabilmente fuori i cinque minuti che mi hai dato è però per la vicenda siae quanto a statuto siae lì penso che siccome sfortunatamente il governo al quale pure quello statuto è arrivato si girerà per l'ennesima volta dall'altra parte dimenticando di essere un'autorità di vigilanza ed è un'autorità che siede negli organi di gestione e di controllo di SIAE sia assolutamente indispensabile che le componenti sociali di SIAE quelle interessate impugnino quello statuto perché qui il tema è dentro quello statuto c'è scritto come ricordavate bene all'inizio che il più ricco vota di più in assemblea e questa è una questione che può in linea teorica anche stare in piedi perché accompagna la vita degli enti commerciali ma in un ente che non è solo commerciale perché sennò SIAE deve lasciare per strada il suo cappellino dell'ente pubblico e rimane soltanto un SPA e accetta la concorrenza è assolutamente indispensabile che questa governance dei più ricchi non investa i meccanismi di riparto cioè quello che non possiamo assolutamente tollerare almeno questa è la mia idea è che ci sia un'accoppiata perfida e diabolica tra chi governa e chi decide chi ciascuno guadagna perché è ovvio che se governano i più ricchi guadagnano di più i più ricchi se i più ricchi sono quelli che stabiliscono le quote di riparto e allora qua la scelta il meccanismo intanto è appena e trovo gravissimo che quella bozza di statuto non sia arrivata in commissione cultura nel corso di una procedura sia pur soltanto conoscitiva la dice lunga insomma su quelle che sono le intenzioni di chi sta lavorando a quella bozza di statuto con la scusa che sarebbe istituzionalmente scorretto dalla prima alla commissione cultura che al governo insomma oggettivamente fa sorridere questa roba qua però quella bozza di statuto secondo me quando diventa statuto va impugnato e quello che si deve chiedere è che delle due luna che si scelga se la governance è una governance nella quale anche gli artisti che ricevono di meno dal riparto hanno però la possibilità di gestire l'ente perché sono quelli che potenzialmente potranno guadagnare di più domani oppure viceversa se il tema tutto del riparto del distribuito viene scorporato dalle decisioni dell'assemblea e degli organi e finisce altrove nel pubblico posto che esistono più o meno 20 enti pubblici o soggetti pubblici che in Italia si occupano di diritto d'autore vi ringrazio sfortunatamente scapperò via anch'io per prendere un treno ma insomma c'è internet e quindi ci sentiamo allora salve io sono Adriano Bonforti di Patamù e diciamo Guido ha detto tantissimo nel suo intervento sulla nostra posizione per quanto riguarda l'Asia e comunque cercherò di spiegare in due secondi che cosa è Patamù e cosa pensiamo Patamù è un sito che è nato per tutelare i piccolissimi artisti anche se adesso abbiamo anche dei medi artisti che non volevano abbracciare diciamo il sistema di gestione dei diritti della SIAE che è un diciamo un sistema che in qualche modo si spaccia per essere l'unico sistema disponibile in Italia mentre in realtà non è così non tanto per la ripartizione dei diritti ma anche per quanto riguarda la tutela dal plagio che è l'interesse magari primario di un artista non solo del musicista il musicista come prima cosa vuole vedere riconosciuta la paternità della propria opera e poi è disposto a scegliere varie modalità per distribuire in qualche modo questa sua opera e ovviamente se la SIAE si spaccia come unico modo per far sì che quest'opera venga tutelata dal plagio poi entra in gioco tutta un'imposizione di vincoli che in qualche modo blocca gli artisti soprattutto artisti piccoli io parlo anche di ragazzi di 17 anni che in qualche modo ingenuamente vogliono vedere tutelata la loro opera ed è un loro diritto è un diritto di chiunque essere creativo a qualunque età e non è giusto dimenticarsi questa fetta di persone che è enorme solo perché non produce introiti non produce ricavi tra l'altro non produce introiti e ricavi per come è costruito il sistema perché potrebbero tranquillamente farlo quindi noi come si dice a Roma non ce li filiamo di pezza loro sono costretti a rivolgersi alla SIAE che impone poi dei vincoli che di fatto ammazzano la loro creatività da subito non parlo diciamo così per altri è successo anche a me quando ero piccolo di andare alla SIAE a 16 anni e di trovarmi davanti un muro che mi chiedeva di pagare non lo so 220 euro per iscrivermi 80 euro all'anno quando chiesi di mettere la mia musica su internet mi chiesero la mia musica di pagare altri 200 euro perché si chiamava autopromozione questa è una cosa che scoraggia vi assicuro i bambini i ragazzi scoraggia i 25 anni scoraggia anche i 30 anni scoraggia molte persone e blocca comunque la creatività quindi Patamoo detta molto in fretta è un sito che permette di tutelarsi dal plagio senza andare incontro ai vincoli stiamo cercando di fare di più nel senso che abbiamo organizzato assieme al Teatro Valle i Copy Left Days in cui abbiamo parlato della cultura libera ovvero di un altro modo di intendere l'arte in cui per esempio non è necessario per forza chiedere soldi e chiedere un compenso a ogni esecuzione della propria opera io sono dell'idea che in realtà sia importante che si possa mangiare della propria produzione artistica intellettuale o lavorativa quindi non credo che sia giusto che esista questo mondo in cui l'artista e il musicista fanno tutto gratis per gentilezza però è anche vero che nel momento in cui si vuole invece contribuire a un concerto di beneficenza o un disco di beneficenza o a un'iniziativa di beneficenza magari per queste tragedie che stanno colpendo in questo momento diciamo una parte dell'Italia è giusto che l'artista sia libero quantomeno di decidere come diciamo se farsi retribuire come utilizzare i propri compensi questa libertà in questo momento è molto ridotta a causa della CIA quindi in qualche modo la nostra posizione come copyleft days come patamù è che si possa permettere una liberalizzazione in qualche modo tutelata e controllata come diceva Guido Scorza che però permetta anche a piccole realtà che non necessariamente rappresentano degli interessi economici enormi di permettere ai loro artisti la scelta di una loro strada ok credo di aver finito ma di norma sono molto sintetico oggi sarà complicato stare nei cinque minuti quindi a un certo punto avrò finito il tempo nel senso che le le questioni messe in campo sono sono tantissime e quindi non è non è neanche semplice focalizzare diciamo un contributo la rete dei festival è un'esperienza nata da un po' di anni all'interno di Audiocop e il meccanismo è sempre lo stesso con cui ci muoviamo da tantissimi anni quello della rete prima che esistesse la rete noi ci eravamo messi in rete convinti che questo fosse uno degli elementi fondamentali e quindi credo che anche il convegno di oggi l'incontro di oggi sia rappresentativo di questo il punto vero è che non c'è una sola parte che in questo paese non funziona nell'ambito della musica il problema nostro è che non ce n'è una che funziona perché noi ci troviamo con una legge come dire che è frutto di una quantità infinita di mediazioni e che comunque sicuramente non si alcune questioni finalmente verrebbero poste perché noi non abbiamo ancora il riconoscimento dei diversi generi musicali abbiamo una tale situazione dal punto di vista legislativo in cui questo pezzo non funziona non funziona il pezzo credo che l'intervento di scorsa sia stato chiarissimo da questo punto di vista per me ci stanno conclusioni leggermente differenti ma perché io diciamo poi la preoccupazione ma lui lo sottolineava benissimo è che se c'è un'assenza di codificazione di legislazione che definisce ambiti e responsabilità la liberalizzazione va a finire come Marchionne e la Fiat per fare una battuta perché quella è la liberalizzazione in Italia cioè che senza cose volgari il cetriolo rientra sempre a chi diciamo è in difficoltà per cui come dire in questo mi risulta allora secondo me la cosa fondamentale è che insieme si cerchi di fare fronte comune che si cerchi di su tutti questi diversi fronti di 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 pesare di agire di di contare perché perché la situazione appunto è veramente complicata parlavamo della crisi delle vendite tutti i paesi sono in crisi vendita sì comunque l'Italia nel mercato prima vendeva lo stesso un quinto un sesto dei prodotti che si vendevano in Francia mudatis mudandis loro non venderanno più cd ma lo scaricamento il mercato e comunque quello che gira intorno a questo è sempre un mercato che è sei volte il nostro per cui c'è la crisi del supporto fisico ma non c'è la crisi della cultura che viviamo noi perché la cultura anzi in tutti i paesi che non sono in tutti gli altri paesi di norma si è ripartiti esattamente investendo sulla cultura allora quello che voglio dire è che noi dobbiamo veramente ricostruire un percorso che è un percorso complessivo perché qui non abbiamo non c'è l'insegnamento della musica nelle scuole dico della musica ma questo può valere per qualsiasi delle forme nello spettacolo dal vivo e quindi è proprio un problema appunto culturale generale non abbiamo non abbiamo il riconoscimento ci diceva l'amica del Cemat il riconoscimento vorrei avere i finanziamenti del Cemat questo rimanga fra di noi insomma lo dico streaming nel senso che viene insomma ci stanno realtà che vengono ben sostenute in questo caso anche positivamente perché poi svolgono un lavoro egregio però anche qui o c'è una ridistribuzione e si riconosce qualcosa che è arrivato negli ultimi 30 anni in questo paese oppure è un disastro lo stesso ragionamento che c'è sulle pensioni il FUS per noi il FUS lo possono chiudere qual è la differenza lo dico come provocazione poi è chiaro che bisognerebbe trovare un altro sistema ma i giovani da cui ormai siamo usciti pure noi ma chi ha ormai 40 ma cosa il FUS è la fotografia di qualcosa e c'era 30 anni fa ci stanno alcune compagnie che si sono comprate il diritto di starci dentro perché hanno comprato la società parlo per esempio sul teatro realtà nuove che siano entrate lì dentro Stefano me ne sai dire qualcuna? qualcuna che ha preso tipo 20 mila euro è uscita subito perché erano più contributi che se ne andavano allora no chiudo qui dicendo che purtroppo bisogna ripartire veramente con un ragionamento come dire generale su tutte le questioni dobbiamo cercare di inserire come dire cercare di essere di nuovo propositivi la legge è un pezzo fondamentale chi vi parla è dal la prima legge a cui ho contribuito diciamo è stata nel 1987 e che non hanno mai visto non hanno mai visto la luce però è un altro pezzo fondamentale su cui dobbiamo su cui dobbiamo intervenire secondo me c'è un'occasione rispetto anche al percorso che si sta facendo sui diritti connessi e alla SIAE di provare a pesare certo che se il commissario viene riconfermato a 92 anni soprattutto scusate ma se il direttore generale è un signore che fa quelle operazioni che ha fatto con la SIAE e soprattutto che ha fatto nei 30 anni precedenti dentro al ministero dei beni e attività culturali come dire non c'è speranza lo statuto che viene presentato è uno statuto folle tutti non possiamo pensare che i grandi editori che portano 700 milioni di euro pesino in maniera identica agli autori dell'Olaf che portano un milione perché questo sarebbe anche un controsenso però siccome abbiamo parlato di mutualità e abbiamo parlato dei valori della cultura bisogna trovare un sistema per cui chi è anche tra virgolette minoranza possa pesare in maniera corretta in un indirizzo e in un percorso all'interno di quella struttura basta sì salve io sono Fabio Fila di Doc Servizi che è una cooperativa di professionisti dello spettacolo la più grande in Italia oggi siamo 2800 soci tra artisti e tecnici e tutto quello che ho sentito oggi è di fondamentale importanza credo che siamo tutti sulla stessa linea d'onda del fare rete ed è quello che stiamo cercando di fare noi cambiando un po' le regole della cooperativa la cooperativa fino a ieri Giordano le conosce perché le ha viste all'inizio erano un fatturifici fondamentalmente quindi un metodo per mettere in regola gli artisti ad oggi le cooperative o perlomeno la nostra stanno cercando di essere propositive nella tutela del lavoro ma anche nella ricerca del lavoro e in questo senso il fare rete che diceva appunto prima rispetto alla rete di festival è esattamente la nostra idea quella di mettere insieme i soci a fare rete tra di loro per procacciare lavoro tra di loro noi parliamo parliamosi di cultura parliamosi di arte ma ci piace parlare soprattutto di lavoro dell'arte perché uno dei problemi dell'Italia in questo senso è proprio che l'arte lo spettacolo in sé non è mai visto come un lavoro o raramente visto come un lavoro invece vedendolo dal punto di vista del lavoro assume anche più importanza rispetto a quelli a cui andremo a parlare perché poi alla fine quando vai dal del ministero dal governo a dirgli che siamo quattro scappati di casa loro ci vedono come quattro scappati di casa parlando di lavoro di diritti di tutele di doveri che abbiamo anche come cittadini italiani come lavoratori probabilmente la musica cambia forse no però a noi piace pensare che forse è questo il punto da cui partire e una cosa di cui parliamo da sempre ma che non è mai esistita in Italia credo è l'associazione di categoria sia degli artisti che dei tecnici dello spettacolo per i tecnici è stato fatto molto negli ultimi mesi dopo tutto quello che è successo purtroppo sono scappati due morti per cui i tecnici sono messi insieme e hanno iniziato a fare ragionamenti in questo senso e gli artisti ancora no gli artisti molto spesso sono singole persone che pensano singolarmente rispetto alla propria arte che è un buon punto di vista nella propria arte è il punto di partenza però il fare rete il mettersi insieme il vedersi mettersi insieme per vedersi come lavoratori che possono insieme proporre qualcosa è il punto secondo me che va affrontato rispetto a che non è stato affrontato oggi ma insomma che mi sento di portare come aggiunta rispetto a quello che è stato detto oggi per le proposte non solo doc servizi o altre ma proprio i professionisti dello spettacolo insomma gli artisti nella fattispecie che possono essere insieme sia come cooperativa come associazioni o come anche semplici professionisti l'associazione di categorie è quello che secondo me è la cosa più più adatta in questo senso anche perché e anche appunto ripeto il lavoro perché purtroppo a volte parlando con loro si parla bisogna parlare di numeri e molto spesso i nostri numeri sono piccoli sono molto grandi però sono piccoli rispetto a quello che sono le potenzialità perché se l'80% di quello che succede oggi dei piccoli concerti è quasi esclusivamente in nero quell'80% aggiunto al 20% che è già grande potrebbe fare un grosso numero che diventa un buon presentarsi rispetto al al governo questo è quanto aggiungo rispetto a tutto il resto grazie Allora buongiorno a tutti dunque anch'io sono un avvocato ma Guido Scorsa ha già detto sostanzialmente tutto quindi vorrei solo aggiungere che è molto importante quello che abbiamo fatto con i Copy Life Days dove abbiamo anche conosciuto Tessini cioè il fatto di informare gli artisti quello che mi ha colpito quando sono tornata in Italia è che qui diciamo gli artisti non hanno consapevolezza dei loro diritti tutti i problemi che ci sono cioè mentre a Londra o in Germania organizzano tantissimi eventi in cui c'è proprio uno scambio molto concreto proprio anche di quelle che sono le esigenze tra chi lavora in questo ambito e chi invece produce contenuti e qui in Italia invece mancano un po' queste queste informazioni anche date agli artisti quindi l'evento che abbiamo fatto al Valle credo fosse una cosa molto utile e mi è stupito anche il fatto ad esempio che c'era anche quasi la paura di un'idea di una liberalizzazione del mercato appunto cioè un'abolizione del monopolio della CIA tutti oddio adesso senza CIA ma come potremmo fare e invece appunto ci sono tanti studi tra cui quello dell'istituto Bruno Leone che dimostrano come in vari paesi tra cui l'Inghilterra ma anche la Francia nei paesi nordici una liberalizzazione chiaramente come diceva Scorza supportata da una legge comunque che tuteli i diritti degli artisti hanno portato comunque a un miglioramento delle in generale proprio delle riunirazioni degli artisti tra l'altro ci sono dei costi molto minori con dei guadagni anche da parte di piccoli musicisti piccoli artisti cioè in Italia soltanto il 60% degli artisti riesce a rientrare della cifra che ha speso per l'iscrizione e per essere un associato CIA e quindi sicuramente ci sono molte cose da fare e abbiamo fatto questo gruppo di lavoro per cui diciamo mi auspico che per esempio io con una ragazza di Londra stiamo cercando proprio di analizzare tutto quello che è stato l'excursus della società di collecting inglese per vedere proprio in concreto di fare delle proposte diciamo di sostanza per poter cambiare le cose anche qui però non in modo aleatorio ma in modo vero ecco penso che come si diceva prima fare una discussione con anime diverse coinvolgendo soprattutto gli artisti in questa discussione sulla gestione dei diritti e i soggetti che dovranno esserci o non esserci a gestire questi diritti secondo me è molto importante anche perché è vero che c'è tutto un mondo di soprattutto nella musica ma non solo di artisti che è molto preoccupato da una liberalizzazione in questo paese perché il problema non è tanto diciamo costruire concorrenza in alcuni mercati il problema è che ci siamo sempre scontrati nel nostro paese con un auspicio verso la concorrenza ma per poi ritrovarci in un mercato che concorrenziale non lo è per nulla e che invece alla fine in quel mercato concorrenziale vincono in realtà gli oligopoli quelli che hanno più risorse poi per presidiare quel mercato senza che la legislazione ponga dei limiti rispetto alla possibilità che questi grandi soggetti in realtà si mangino tutto il mercato quindi è un po' questo io credo uno dei punti sul quale dovremo capire come lavorare tutti insieme per costruire una possibile alternativa o comunque un sistema in cui la CIA ha un suo ruolo ma ci sono altri soggetti che ne hanno degli altri se noi riusciamo a fare questo passaggio di riflessione e proposta forse troviamo anche la modalità per convincere anche alcuni di noi che sono piuttosto preoccupati di come sta andando la vicenda della CIA e non solo della CIA a lavorare tutti insieme per un progetto comune bene allora adesso intanto ringraziamo tutti per i contributi anche coloro che si erano impegnati a partecipare ma poi per impegni lavorativi e professionali non hanno potuto li raccoglieremo le loro proposte e suggerimenti sicuramente in altri momenti che con l'Arce con quelli che insieme a noi ci seguono in altri due momenti comuni che avremo a fine settembre a Faenza con il festival della rete dei festival Super Sound 28-29-30 settembre a Bari al Medimex dove anche lì saremo presenti con i nostri premi con le nostre aree e i convegni dal 29 novembre al 2 dicembre quindi sono due appuntamenti che vi do di tipo professionale da segnare e poi ovviamente aspettiamo proposti dei suggerimenti dove proseguiremo questo faccio una piccola conclusione credo che il tema essenziale viene detto poco spesso forse perché abbiamo dei timori ma oggi il problema essenziale è quello dell'assenza di risorse qui mancano i soldi in questo settore nel senso che il crollo del mercato del CD ha fatto mancare in 10 anni l'80% di un fatturato importante che faceva circolare tutto il settore della musica questo è quanto questo tipo di economia non è stata sostituita per ritardo dei manager discografici che non hanno capito l'importanza di internet e hanno fatto perdere una possibilità di recupero di questa somma che potrebbe essere maggiore di quella che è due il mercato dei live di fronte alla crisi complessiva dell'economia e del cambiamento anche di fruizione del tempo libero sta segnando il passo escono dati anche controversi ma siamo sicuri di dirvi al 100% che è un mercato in crisi che segna anche questo i dati negativi nel senso che è sempre più ampia una forbice di grandi concerti a grandi costi e sempre meno sono i concerti a basso costo e quindi che permettono di far crescere i nuovi talenti così come il calo del fatturato discografico non permette di investire nuovi talenti terzo vengono tagliati in maniera ripetuta senza distinzioni i fondi che sono in assenza di quelli nazionali i fondi regionali e locali per lo sviluppo di festival e di attività di musica dal vivo nel senso che noi abbiamo ogni giorno una cancellazione di un festival una riduzione tutta una serie esclusi alcuni casi felici che sono la regione Puglia il Trentino Alto Adige alcuni che hanno tenuto come la regione Emilia Romagna la Toscana e un po' di Piemonte cito così a braccio però sostanzialmente siamo di fronte a una drastica riduzione di queste risorse allora il tema centrale è recuperare queste risorse i diritti sono un elemento essenziale oggi temo che purtroppo la liberalizzazione oggi sia la nuova trasformazione delle grandi multinazionali per tenere in piedi questo mercato prima quando c'era un mercato governato da loro non si parlava di liberalizzazioni oggi oggi in cui forse c'è l'opportunità di poter contare di più all'interno di meccanismi come la CIA e l'IMA e l'SCF è chiaro che si parla di liberalizzazioni dove spesso quando non ci sono regole come è stato detto comanda chi è già potente ed ha un predominio di mercato quindi io dico le liberalizzazioni mi preoccupano moltissimo non molto perché come mi preoccupa la mancata distribuzione democratica fra virgolette dei diritti che c'è stata da CIA e dagli altri soggetti fino a poco tempo fa mi preoccupa molto questa liberalizzazione senza regole che aumenterà solo la redistribuzione fra coloro che già incassano moltissimo e quindi da questo punto di vista è innegabile che va fatto un ragionamento forte sulle risorse e lo deve fare una parte soprattutto politico culturale che deve avere a cuore questo tipo di sistema che è il sistema musica del nostro paese qualessa sia quale sarà lo vedremo è chiaro che i segnali ci arrivano maggiormente da alcuni meno da altri il timore che si rischia e non interessa alla fine nessuno e questo è il timore grande concludo dicendo che l'altro aspetto che non ci dobbiamo nascondere è che noi siamo in ritardo sul tema dell'innovazione cioè se in altri mercati il tema dell'innovazione digitale è stato affrontato recuperando maggiormente il consumo di musica del digitale noi abbiamo avuto mi ci metto anch'io tranquillamente un'area di promotori della musica grandi piccoli essi siano che non hanno capito il grande cambiamento epocale che portava internet questo non significa che oggi staremmo enormemente meglio ma forse i dati di recupero del digitale che avremmo avuto forse sugli indipendenti sarebbe stato maggiore se che so dicono a battute tutti gli indipendenti avessero costruito dieci anni fa un grande portale di riferimento della musica italiana insieme a degli altri il MEI quest'anno ha deciso di festeggiare una data ben precisa che sono i 50 anni dalla nascita di quella che è forse la prima etichetta indipendente italiana in qualche modo strutturata che è il CLAN che ha pubblicato il primo disco proprio nel 62 con un 45 giri di Ricky Gianco ci sono state altre esperienze precedenti di etichette indipendenti ma in qualche modo quella ci sembrerà particolarmente significativa e il MEI aveva intenzione di realizzare durante tutta questa annata una serie di iniziative che cercassero in qualche modo di valorizzare come è già stato detto l'apporto della musica indipendente nel nostro paese mi ha incaricato un po' di curare e coordinare questa cosa che si svolge attraverso un referendum in tre passaggi diversi il primo passaggio c'è stato nei mesi scorsi cioè abbiamo interpellato 50 giornalisti musicali italiani di vario tipo da nomi molto affermati a giovani poco conosciuti con gusti e culture musicali differenti chiedendo a tutti loro di dirci quali sono gli artisti indipendenti della musica italiana di questi 50 anni più significativi e il risultato ha portato sul podio Adriano Celentano gli after hours e come vincitori appunto gli area che fra l'altro hanno vinto in modo nettissimo con un grande distacco un secondo passaggio inizierà adesso cioè si interpelleranno anche 50 operatori addetti ai lavori e anche loro daranno le loro valutazioni dicendo quali sono secondo loro gli artisti più indipendenti e illustreremo i risultati di questo secondo passaggio nel Super Sound che si svolgerà a fine settembre a Fraenza l'ultimo passaggio sarà quello di coinvolgere il pubblico attraverso la rete fra settembre e novembre perché poi la conclusione di questa di questa annata di celebrazione in qualche modo sarà a Medimax a Bari dal 29 novembre al 2 dicembre come diceva Giordano questo è un po' è stato quello che è stato fatto e che verrà fatto dico solo una cosa brevissima ci sono state polemiche sono i nomi che sono stati inseriti in questi 50 artisti ma noi abbiamo interpellato i giornalisti musicali lasciando totale libertà a loro di decidere cos'era indipendente e cosa non era sapete bene che il discrimine in certi casi è molto soggettivo quindi c'è chi considerava le etichette distribuite da major comunque indipendenti c'è chi non le considerava insomma c'erano varie idee c'è chi ha considerato un'attitudine indie al di là della casa discografica per cui si incide insomma ci sono state varie varie idee e questi 50 nomi che trovate in rete cercando senza problemi in qualche modo rappresentano questa difformità di idee insomma mi sembra di aver detto abbastanza direi che grazie dell'opportunità soprattutto di poter festeggiare insieme a voi di area che tutti conosciamo e stimiamo due parole sulle liberalizzazioni veramente due parole non ho potuto sentire purtroppo il discorso dell'avvocato dell'avvocato Sforza che comunque conosco e che peraltro ho incontrato ieri pomeriggio al mio studio e con il quale ho avuto un lungo colloquio quindi conosco bene penso di conoscere abbastanza bene la sua posizione io sono preoccupato non meno di Giordano e voglio segnalarvi che quello che sta accadendo in Italia è un caso unico al mondo sicuramente unico in Europa cioè non c'è paese europeo in cui più collecting di artisti si fanno la competizione non c'è un solo caso ci hanno effettivamente provato in Inghilterra se non che le due società sono sostanzialmente fallite perché invece di perseguire gli utilizzatori cercando di percepire più compensi si facevano la concorrenza tra loro ed oggi in Inghilterra opera una sola società che si chiama PPL e che non solo agisce per conto degli artisti ma anche per conto dei produttori quindi il paese più liberale del mondo c'è un sostanziale monopolio in tutti i paesi europei dove operano più collecting operano ma non in competizione ad esempio in Spagna dove opera l'AISG e l'AIE una è dedita all'audiovisivo e un'altra alla musica in Germania c'è soltanto il GVL che opera in Francia dove opera la Dami e lo Spedidam una opera per gli artisti primari e un'altra opera per gli artisti comprimari quindi non si fanno la guerra tra loro e così discorrendo adesso non vorrei farvi il lungo elenco ma credetemi sulla parola in Italia è accaduto che in considerazione del diciamo della brutta fine che ha fatto il vecchio Emaie per colpe che non sono io qui a dire ma che mi paiono abbastanza evidenti si sono creati i presupposti storico-politici per cercare di far sì che si potessero insinuare dei soggetti che hanno tutto l'interesse tranne quello di fare l'interesse degli artisti questi soggetti già stanno operando e non mi sto naturalmente riferendo agli attori che operano e che hanno diffuso il video che tutti conosciamo e rappresentano esattamente il vecchio cioè quello che ha condotto ad una crisi indemica del sistema noi come Noi Maie abbiamo cercato di capovolgere esattamente gli errori che sono stati fatti nel passato imparando dal passato e cercando di esattamente proporre un sistema completamente diverso prima non si sapeva niente di quello che succedeva nell'istituto ora l'istituto è una campana di vetro cioè si sa tutto tutto è in rete i rendiconti sono in rete ciascun artista può vedere abbiamo stipulato quasi un centinaio di accordi con altrettanti utilizzatori quando il vecchio istituto in vent'anni ne aveva perfezionati sette e nonostante la crisi endemica del settore una crisi che soltanto voi conoscete meglio di me noi stiamo incassando di più cioè di più di prima quando il settore era in crescita allora qui non è il problema della introduzione della libera concorrenza secondo me la libera concorrenza è un settore in cui ci può essere per uno stesso brano musicale due artisti che vanno in due collecting diverse che adottano un sistema di ripartizione diversa e quindi inevitabilmente entrano in conflitto tra loro è un sistema che non funziona ma non funziona non qua in Italia ma in tutto il mondo tant'è vero che non c'è in nessun paese del mondo un unico precedente è in Brasile unico attuale ma in Brasile c'è una super collecting dove sono rappresentate tutte le collecting e che prevede ammontare la ripartizione diversamente mettendo in competizione due artisti che hanno partecipato a uno stesso film o uno stesso brano musicale magari uno come primario e uno come comprimario è inevitabile il conflitto inevitabile ed è per questo che forse che Giordano è preoccupato infatti sono preoccupato anche io ed è preoccupato chiunque abbia una conoscenza approfondita del settore perché se volgiamo lo sguardo all'estero abbiamo solo da imparare e all'estero non funziona così c'è una grande trasparenza c'è la partecipazione degli artisti c'è la possibilità che gli artisti hanno di poter controllare vigilare incidere decidere e questo è quello che stiamo facendo noi è quello che dobbiamo fare noi laddove non lo facciamo a sufficienza è giusto che noi come nuovi maie chi in questo momento sta dirigendo l'istituto ne paghi le conseguenze ma non è creando mille rivoli gli artisti che magari si fanno la collecting fatta in casa e che fanno la concorrenza ai propri stessi colleghi che si risolvono i problemi i problemi si risolvono semplicemente cercando di unire la categoria di creare delle strategie comuni e arrivo paradossalmente a dire che è anche facendo delle strategie con i produttori e anche con le major che si guadagnano delle posizioni che si fa un vantaggio che si diciamo creano i piersupposti perché tutto il settore del diritto connesso non va da rotoli ecco questo è quello che in tutta onestà io penso e spero di essere stato chiaro e è tutto qua insomma questo è il mio pensiero sono pronto no no mi sembrava un doveroso e giusto omaggio e poi per me era sentito per cui vale dubbio allora buongiorno a tutti solo qualche minuto per raccontarvi un po' la genesi di questa esperienza che si chiama ancora in piedi ancora in piedi il nome della canzone Iper il nome del progetto che è acronimo di indipendenti per Emilia Romagna e Lombardia perché oltre l'Emilia Romagna per esempio insomma l'Arcitom di Mantova che è stata parte attiva e sarà parte attiva del progetto con l'ultima scossa ha subito insomma dei gravi danni le immagini le abbiamo viste tutte dal televisore è sempre diverso emotivamente quando poi uno sente degli amici o dei parenti o delle persone che ben conosce in Emilia Romagna io lì ho tanti amici anche collaboratori di lavoro proprio a Creva il Core ma lo stesso Giordano le Brache Corte e altri ancora e quindi quel giorno quando è successo poi sono andato a dormire con un po' di senso di colpa ho detto però da Roma che posso fare qualcosa dobbiamo fare mi sono svegliato la mattina dopo e ho detto sarebbe figo come molti di voi hanno detto prima che sono fermamente d'accordo dare un'immagine di coesione unità tra artisti e ancora di più aggiungo indipendenti per uno scopo nobile e alto come quello che poi insomma è venuto fuori ho detto chi potrebbe essere così vulcanico più di me da in qualche modo sotto l'eggita di audio che ho poi il supporto molto insomma intenso dell'Arci per mettere insieme questo progetto e immediatamente mi è probabilmente Giordano San Giorgi che voi sapete insomma essere esattamente così come ho descritto chiamo Giordano gli racconto le idee Giordano dice no no a posto è fatta in realtà non era proprio così semplice mi sono armato di agendino ho chiamato tanti amici colleghi che so essere sensibili a questi temi e ho scritto al volo una ballata che in questo caso poteva unire artisti con percorse e storie così differenti insieme a Emiliano Rabbide e Lemmings che ha prodotto tutto quanto insieme a me e la cosa ulteriore idea che abbiamo avuto è di visto che tutti i proventi andranno appunto su un conto di banca etica che trovate qui poi nel comunicato destinato appunto all'emergenza terremoto Nord Italia di non incidere con dei costi di spostamento studi di registrazione e quant'altro ma usando invece la rete parlando tramite Skype cellulari digital delivery e compagnia di assemblare tutto quanto i studio qui a Roma alla zona poi altri studi per esempio il Fono Print a Bologna e l'Oper di Cento si sono resi disponibili per far registrare artistiche appunto come lo stesso Cisco che è forse più di tutti artista simbolo di questo progetto che proprio in quei giorni era costretto a vivere in tenda con la famiglia e non avendo più lo studio agibile è andato proprio appunto lì a registrare la sua voce e vi dirò chi ha partecipato perché insomma mi sembra il minimo in rigoroso ordine alfabetico 9 e 9 posse Roberto Angelini per Paolo Capovilla dal Teatro degli Orrori Enrico Capuano Cisco Valerio Conbeis bassista degli Apri la Class ma anche col suo progetto Conbeis altro bassista molto importante Roberto Dell'Era degli After Hours DJ Aladin Andrea Ferro e Marco Coti dei Lacuna Coil Le Braghe Corte che ho prima citato appunto Emiliano Rabbi e tutti i Lemmings Erika Mu Federico Poggi Pollini che è anche lui artista del territorio in quanto di Bologna Eva Poles I Quinto Rico anche loro di Ravenna Sud Sound System e Velvet quindi una decina di artisti indipendenti come nomi se poi sommiamo anche gli elementi dei gruppi arriviamo quasi a quasi a 30 la canzone si chiama appunto Ancora in piedi uscirà il 3 luglio distribuita da Made in Italy che non tratterà alcuna percentuale da questo progetto e la promozione sarà seguita insomma dall'altoparlante per le radio e Lunatic per la stampa ma appunto come detto prima con tutto il supporto dell'Arci ci sarà un videoclip girato da Luna Gualano anche lì per limitare i costi non saranno gli artisti a raggiungere una location da tutta Italia ma invece la regista e una sua troupe con una macchina a gas così spediamo ancora meno a muoversi da Milano fino al Salento per registrare tutti quanti quindi insomma ecco alla crisi rispondiamo con l'inventiva degli artisti e in questo caso anche con il cuore di molti artisti di molti amici però appunto ultimi ma non per ultimo di Audiocop e dell'Arci qui presenti un premio è chiamato il Danilo perché purtroppo Danilo è stato un componente del comitato consultivo del nostro istituto che purtroppo è venuto meno un mese fa e per ricordarlo abbiamo richiamiamo i nostri premi il Danilo per proprio ricordare lui insieme attore doppiatore prego sono molto contenta che in questa occasione si ricordi Danilo che è stato un artista generosissimo che si è battuto per i problemi di tanti e che con intelligenza ha sempre saputo accogliere le richieste di chiunque quindi è un artista che merita di essere ricordato nel tempo assolutamente io l'ho promesso alla sua mamma al funerale ma comunque anche se non avessi fatto questo sono molto motivata sono molto contenta che questo premio vada a voi che siete artisti veri e che non siete così tanto diciamo inflazionati cioè noi siamo una categoria un po' così che si fa perché abbiamo bisogno di farlo grazie grazie mille molto gentile Patrizio adesso direi che state insomma intanto ti ringraziamo per tutto quello che avete fatto e quello che farete ovviamente grazie cosa posso dire di più sono onorato di questo premio come gruppo indipendente anche se fatica a capire bene cosa significa essere indipendenti a me piace pensare l'essere indipendenti come uno stato della mente anche perché noi abbiamo come gruppo da sempre perseguito questo scopo cioè quello di fare musica senza il minimo la minima intromissione da parte di come diceva tutto chi che e sia nei confronti del nostro lavoro quindi una certa determinazione e intransigenza anche delle volte nel portare avanti il proprio percorso questo è nel 1972 quando questo gruppo ha cominciato a lavorare poi ci è creato il problema di confrontarsi con la diffusione del nostro lavoro tramite un disco o anche un documento e lì garantisco che ce la saremmo trovata vista veramente brutta per un gruppo indipendente come noi e fortuna che incontrammo un personaggio al quale dedico anche questo premio anche a lui Gianni Sassi che incontrò gli area e si inventò la Cramps per fare il primo disco degli area quindi si inventò il disco grafico lui che non era un disco grafico non so come definire se un operatore culturale o un industriale illuminato non ho idea fatto sta che gli area trovarono il loro paroliere innanzitutto e automaticamente il virgolette il disco grafico ha fatto la Cramps con un criterio assolutamente suicida perché oltre che produrre il nostro disco che se ne vendevano quattro e croce ha prodotto le collane di musica contemporanea più interessanti mai pubblicate in Italia trattando prodotti di una come dire radicalità assoluta come fossero prodotti di musica giovanile e promuovendola in questo senso creando dei bellissimi casili anche in Italia primo fra tutti il concerto di John Cage al lirico di Milano sono passati 40 anni da allora il gruppo si è sciolto abbondantemente perché ufficialmente area anche per eventi legati a quella che in Toscana si chiama Sfiga Maiala ha perso diversi elementi quindi prima di tutto Demetrio poi Giulio Capiozzo ma anche Gianni Sassi stesso per non parlare di Edi Busnello non so abbiamo una serie di la Sfiga Maiala nel nostro caso è stata abbastanza accanita questo bisogna dirlo e succede che ci siamo un po' persi di vista con i vecchi compagni ognuno di noi ha fatto il proprio lavoro di musicista sempre con lo stesso senso di intrasigenza e di indipendenza un paio di anni fa ci siamo incontrati per caso su un palco a Siena e nel tempo di un caffè abbiamo deciso di riprendere l'attività sono due anni che facciamo concerti divertendoci come dei bambini nonostante io che sono il più giovane ho 61 anni mi piace essere il bambino del gruppo sono due anni e cosa succede ora ci troviamo nella stessa condizione del 72 abbiamo il desiderio di registrare quello che abbiamo fatto perché diciamo che prima di tutto ci interessa l'attività performativa quindi il lavoro sul territorio davanti a un pubblico con della musica che è lì in quel momento e quando abbiamo finito di suonare non c'è più questa è l'idea di principio poi qualcuno di questi concerti li abbiamo registrati e adesso stiamo lavorando a quello che poi probabilmente dico probabilmente diventerà un disco doppio CD doppio live e abbiamo il problema di confrontarci con il mercato ora posso tranquillamente dire che sono passati 40 anni da 72 non è cambiato un caso questo mi sembra un ottimo sintesi finale sì infatti ho chiuso con questo qui ringrazio ancora una volta per il bellissimo premio che ripongerò agli altri ringraziamo Patrizio io ringrazio il presidente Miciche per questo premio tra l'altro intitolato il primo premio a questa importante figura dei nuovi maie a nome dell'Arci ringraziamo tutti i partecipanti e quindi vi diamo appuntamento per le prossime volte perché proseguiremo nonostante tutto abbiamo questa passione proseguiremo il lavoro sulla musica quindi gli appuntamenti che vi dicevamo i prossimi grazie a Tommaso anche a presto e acquistate il brano ancora in piedi dal 3 luglio su Made in Italy in digitale su iTunes che ci date una mano grazie